Maggio 2025 e i siti candidati per ospitare il futuro Einstein Telescope sono aumentati, sono passati da due a tre, tre siti in gara, dunque una in Italia, nelle ex miniere di Sosenatos in Sardegna, una è la regione all'incrocio tra Belgio, Olanda e Germania, la Mos Rhein Region, Euro Region come la chiamano, e poi c'è il terzo arrivato, il terzo arrivato è la Lussazia, una zona al confine tra Germania e Polonia. Quale dei tre è migliore o quali caratteristiche offre dal punto di vista sismico? Perché sismico? Perché il rumore sismico è uno tra i parametri fondamentali per ospitare degli interferometri di onde gravitazionali, quale dei tre potrebbe prestarsi meglio, lo chiediamo a tre dei sostenitori dei tre siti, tutti e tre presenti oggi a Bologna, dove si inaugura proprio oggi, lunedì 26 maggio, il quindicesimo simposio dell'Einstein Telescope. Per quanto riguarda il tuo sito, il sito che stiamo supportando, dovrebbe essere un buon punto di vista di un punto di vista seismico? Sì, per la regione europea Meuse-Rhin regione, crediamo che la geologia è abbastanza interessante e interessante, e questo è quello che abbiamo scelto questo sito. La caratteristica la caratteristica è che l'on topo hai una molto sottola, che è eccellente nel dampenare o eliminare vibrazioni dalla superficie, e sotto la sottola, hai una molto sottola, che è eccellente sui per diggare un tunnel o per creare caverne per l'Einstein Telescope. Quindi la combinazione del dampenare e di eliminare vibrazioni, che è ovviamente quello che vuoi fare per la scelta di scelta del teore. Il pasto è quello che fa così fantastico. E adesso, ovviamente, dobbiamo fare per provare che il scelta di scelta di scelta di scelta al pasto è più lungo, oltremente quello che dovrebbe essere, e per questo stiamo trillando lacetti e mettendo dei scelta di scelta di scelta, per mesurerla il scelta. Non mi ricordo esattamente, ma vostra regione è a crossroads di tre paesi? Sì, è a crossroads di Niederlande, Belgiunga e Germania. Grazie. Che cosa su Sostenato's Mine in Sardinia, in Italia? Sostenato's Mine è stato un posto di cui abbiamo scoperto che Sardinia è un posto buon posto per ottenere un telescopio Einstein perché la Sardinia ha una stessa tectonica lunga, e, geologicamente, non abbiamo alcune attive volte, e anche la seismicità è quasi nulla. Noi consideriamo Sardinia quasi seismica. Questo è stato provato anche dal studio di seismica, e anche dal studio di solito e antropico, e abbiamo provato che il livello di solito è molto alto, è abbastanza alto per avere un telescopio di Einstein che funziona in full force. Grazie. E poi abbiamo un terzo candidato, un nuovo candidato, perché ci sono arrivati recentemente. Quale è il sito? Il sito in Lusetia, che è in un'occhiamento tra Polo, la Repubblica e la Germania, il Saccone, come una regione in Germania. E perché è il sito in Lusetia? Perché è il sito in Lusetia? È perché è geologicamente abbastanza abbastanza, perché abbiamo molti sedimenti di solito, circa 40-50 metri di solito, e poi abbiamo avuto qualcosa che è molto competente, che è comparabile con lo che abbiamo in Sardinia, un granulodiorite, e che è quindi homogeneo a la parte di un'occhiamento o L-shape, per l'Einstein telescopio. Abbiamo ora trillato in l'occhiamento, ma abbiamo già avuto i nostri mesurati, e noi stiamo cercando di realizzare un'occhiamento digitale, così che possiamo modellare l'occhiamento e così che possiamo realizzare come in profondo, dobbiamo andare in per ottenere un'occhiamento o un'occhiamento di decibel in un'occhiamento di solito, così che possiamo fare una buona decisione. E in tutti i tre siti la configurazione sarebbe un triangolo, non è? Questo è ancora in debattamento, questo è stato studiato in diversi settori durante questo Symposium. potrebbe essere un triangolo ma anche in L-shape, quindi è in debattamento ora. Un'altra domanda, in quanto riguarda la profondità, come profondità sarà il telescopio? Sarà la stessa profondità in tre siti? No, probabilmente non. in questo caso ci sono andato in quanto riguarda la migliora in quanto riguarda la migliora e la migliora è in quanto riguarda 300 metri sotto la superficie in l'EMR regione. In l'EMR e in Lusizia? In Lusizia sarà il punto di 250 a 300 metri ma questo è quello che stiamo esplorando in quanto riguarda la migliora e in quanto riguarda in Sosenatos? Questo è più o meno lo stesso è un'avvaluazione e anche la forma di montagna di Sardinia può varia da 300 a 400 ma è un'avvaluazione in Sostenibilità che ritrovi in quanto riguarda un'avvaluazione di S spazia